Ciao a tutti, sono Michele del Gambrinus e oggi faremo il caffè pistacchio, un caffè gourmet molto apprezzato e richiesto nelle caffetterie napoletane. Come si fa? Ovviamente l'ingrediente base è il caffè che noi abbiamo fatto con la mocha. Ricordate sempre che il caffè, guardate che bel caffè, guardate la cremina che si è formata in superficie. Chiaramente il caffè va sempre girato per mescolare la parte cremosa in superficie con la parte più sotto che è più liquida. Fatto questo versiamo il caffè all'interno di un bicchierino di vetro, così. Adesso versiamo lo zucchero, ecco qua, pronti? Via! Perché il caffè pistacchio va zuccherato. Fatto questo continuiamo a girare, adesso è il momento di versare la panna al pistacchio che abbiamo realizzato con i pistacchi freschi. Voilà! Ecco qua. Fatto questo l'ultimo passaggio è un tocco di classe, la granellina di pistacchio che mettiamo per decorazione. Il caffè pistacchio è pronto, come vedete è molto facile da preparare, lo si può fare anche a casa. E questo è un caffè da provare nella nostra città, perché come diceva mio nonno, ho caffè di Napoli, è speciale. Vi aspettiamo a Napoli per un caffè gourmet. Ciao!